Prende Socrass e ditegli che aveva ragione, sono una strega! Niente, niente di niente. Uffa, ma perché? Credo che non ci riusciremo più, amici. Tutto per colpa di quei tre, ci hanno fatto qualcosa di strano. La nostra avventura è finita. Non ci resta che salutarci e andare ognuno per la sua strada. Che c'è, pota? Dobbiamo farci la barba. Dobbiamo farcela crescere. Ah, ho capito, è Socrass! Buona idea, lui potrà aiutarci. Potevi dirlo prima. Ehi, ascoltate, qualcuno sta piangendo. E tu chi sei? Che ci fai qui? E perché piangi? Ehi, quante domande! Cos'è un'interrogazione? Ha ragione, lasciate che si calmi. Ah, grazie! Oh, mi chiamo Berta e sono scappata dal mio paese perché la gente era cattiva. E voi chi siete? Noi siamo, noi eravamo il roteo. Sapevamo saltare e fare la ruota. Tutti erano felici con noi. E adesso? Non siamo più capaci. Effettivamente, però vi credo perché siete simpatici e mi avete aiutata. Grazie, Berta. Ehi, guardate, mi lasciate qui da sola nel bosco. Perché? Vorresti venire con noi? Perché no? Potrei anche esservi utile. So cucinare le torte e raccontare il fiabe. Tutto meno che saltare e fare la ruota. Ma con voi non rischierò certo di imparare. Con noi no, ma con Sokras forse sì. Sokras? È il nostro maestro, è da lui che andiamo. Lui ci ha insegnato tutto. A noi e alle ragazze. Ragazze, le ruoteo.